Colombo, controllo sinistro! Poggio di tacco per Leao, che poi sterza, entra in aria Leao, Leao! Poi, comprensione con Milik, allora Braim Dias se ne va, Milik non è d'accordo ma non lo prende, Braim Dias in aria, Braim Dias! Entra in aria, palla per Dominguez, 1-2, poi conclusione, giro! Lato corto, entra in aria, alza il pallone, secondo palo, Zimane, in aria Zimane! Palla lasciata lì, era terra Mandragora, Biraghi, calcia dalla linea di metà campo! Varaschelia che riceve, Varaschelia, uno contro uno, va sul destro, sterza, risterza e calcia! Le radar difensivi della difesa del Napoli, Salma Kers, strano speciale, Salma Kers fino al capolinea! Accoglie facilmente, non c'era nessuno sottoporta a proporsi, Teo Hernandez riparte veloce, evita Milinkovic-Savic, si accentra la sua maniera, Tio Hernandez vede la porta, calcia! Teo!